Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo sono stati ordinati dieci nuovi sacerdoti dell'Ordine dei Frati Minori nella Basilica di San Salvatore a Gerusalemme. La cerimonia è stata presieduta dal Patriarca di Gerusalemme dei Latini, sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, con la presenza di altri vescovi e centinaia di presbiteri da diversi paesi e comunità religiose. Fedeli amici e parenti hanno partecipato con viva fede a questo momento significativo per la Chiesa di Gerusalemme. Nell'Omelia il Patriarca, partendo proprio dalla domanda del Vangelo, si è rivolto ai futuri sacerdoti e all'Assemblea sul significato del conoscere Gesù. Siamo sempre un po' lontani dalla piena conoscenza di Gesù. La domanda di Gesù del Vangelo di oggi, voi che dite che io sia, se accolta seriamente, vi porterà a mettere sempre più a fuoco il vostro rapporto con Gesù, ad affinare i vostri sentimenti misurandoli sui suoi, a darvi obiettivi di vita più realistici, a sentire sempre più profondo il desiderio di conoscerlo. Predicatori del Vangelo, Ministri dei Sacramenti, intercessori del popolo di Dio, i nuovi sacerdoti consacrano la loro vita a Cristo, sommo ed eterno sacerdote, e si offrono come vittima pura per la salvezza degli uomini. Per San Francesco il sacerdote è importante soprattutto perché amministra il perdono di Dio e perché amministra il corpo e il sangue del Signore. Io aggiungo anche, sono sacerdoti francescani e quindi devono ricordare sempre il valore dell'umiltà. Diventare sacerdoti non vuol dire essere messi sopra gli altri, diventare sacerdoti vuol dire essere messi sotto gli altri, perché il Cristo sacerdote è il Cristo che dona la vita per amore dell'umanità sulla croce. Non è il Cristo che si impone, ma è il Cristo che, potremmo dire con le parole di San Paolo, si annienta per amore dell'umanità. I novelli sacerdoti provengono dalla Repubblica Democratica del Congo, dal Messico e uno dall'Italia. Noi possiamo chiedere a voi di pregare per noi, affinché Dio ci dà la forza di continuare a servirlo, perché il sacerdosio che abbiamo avuto oggi non è il nostro servizio, ma noi siamo i ministri, cioè siamo i servitori di Cristo. A parte l'emozione grandissima di essere ordinato qui a San Salvatore, qui a Gerusalemme, ma proprio il richiamo di seguire Cristo, allo stesso tempo di cercare di diventare, di essere come Cristo, come il Paterca ci ha ricordato durante l'Omelia. Avremo sicuramente le nostre cadute, avremo sicuramente le nostre infedeltà, ma ciò che conta veramente è Cristo, quindi seguire Cristo e cercare di vivere appieno questo cammino e gli altri si accorgeranno se noi veramente abbiamo Cristo. Sono molto contento che la mia famiglia mi accompagni in questo giorno. Saluto tutte le persone che mi accompagnano dal Messico, amici e familiari, tutte le persone che hanno pregato per me e anche io prego per tutti voi. Ringrazio la mia mamma che mi segue dal Messico e da qui inviamo benedizioni e saluti a tutti. Grazie a tutti. Dio Padre vi benedica a tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén.